e bella a tutti ragazzi sono il gilberga sono qui oggi tornato a portarvi quella che molto probabilmente sarà la sfida di questa settimana ovvero cerca tra un parco giochi, un accampamento e un impronta, un'orma allora come state sicuramente vedendo la stellina si troverà esattamente tra queste tre cose vicino grisi vi ho appena fatto vedere il punto esatto in cui si trova nella mappa il gameplay che state vedendo sotto non è mio ma è preso da un youtuber americano trovate il link in descrizione perché i crediti vanno dati qua esattamente troverete la sfida e nulla raga vi ricordo che in contemporanea ho fatto uscire anche il video in cui mostro tutte le location dove ci sono i poster di Omega e Carburo quindi non perdetevi, troverete il link qua in alto a destra e nulla raga, in fondo al video trovate il mio logottino per iscrivervi e fatelo nulla raga, ci vediamo al prossimo video oh 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 oh